bentornati amici di obiettivo news ad una nuova puntata di due quattro ruote passioni motori e diego piccatti ciao benvenuto un po di anni che corriamo ho combinato un po di tutti sono partito proprio dalla forno milani e siamo partiti nel 2010 con il mondiale molto buo e con Balbozzi